Sono molto felice di questo nuovo ruolo e sono molto felice di rimanere a far parte di questa grande famiglia della Megabox. Ho pensato molto quando ho preso questa decisione, quando ho smesso di giocare, mi ho preso tempo e dopo ho pensato che questa potesse essere una grande opportunità per me per condividere le mie esperienze e per insegnare ai giovani come diventare campioni. Sono innamorata, totale, con Vallefogli, con questa regione, con persone che abitano qui. È bellissimo stare qui in questi anni, ho iniziato a conoscere tutti ed è un posto che riguardo alla natura, alla cultura ha una grande offerta e per me è bellissimo essere qua e mi sono innamorata di questo posto. Voglio insegnare a tutti che tutto è possibile, magari tutti non diventeranno campioni, ma in ogni caso è importante come si sentiranno dentro, si sentiranno pronti e in ogni caso il mio ruolo sarà quello di condividere la mia competenza, le mie esperienze con i giovani di questo territorio. Questa è la mia famiglia, queste sono le persone per cui mi confio 100%. Especialmente per decidere di finire la carriera, tu ogni volta decidi in il migliore posto, perché è come il ultimo momento della mia carriera. Nel ultimo momento della mia carriera... Ho giocato in tanti paesi, ho avuto tante esperienze, ma qui ho trovato persone davvero speciali, uniche direi, Ivano, Luisa, Angeli hanno creato un grandissimo progetto, ma quello che trovo qui è un comportamento davvero speciale e per me finire la carriera qui e cominciare una nuova attività qui è stato naturale. Ciao!